Io capisco la campagna elettorale che ha provocato strappi e lasciato ferite sanguinanti, però mi ricordo che il ministro Bonisoli aveva detto che siamo stati velocissimi, Spidi Gonzales noi siamo stati e siamo rimasti, il nostro progetto è già là, adesso attendiamo che il governo decida se debba firmare Lezzi o debba firmare Bonisoli, io dico più gente siamo meglio stiamo, più gente siamo meglio stiamo, però non vorrei entrare in questione all'interno del Movimento 5 Stelle, però eravamo pronti a fine maggio, ci avevano detto primi 7 di giugno, poi il 14 di giugno, poi il 21 di giugno, siamo pronti, quella è una bella notizia, chiudiamola, la città si è mostrata prontissima, tra l'altro è stato anche un esempio di piena cooperazione tra Comune e Regione Campania, quindi devo dire la verità, Comune e Regione Campania hanno rispettato in pieno i tempi, siamo stati perfetti, quindi il governo ha fatto un grande lavoro, però saranno gli strasci, saranno un po' le cose, stiamo perdendo qualche giorno, quindi io mi auguro che il ministro Bonisoli abbia preso un impegno, ci convochi al più presto e non facciamo passare anche il mese di giugno, perché sinceramente ne abbiamo bisogno di quelle risorse, ormai sono tutti che attendono, sono lavori importanti anche per la messa in sicurezza, per la riqualificazione, ci siamo, noi ci siamo, aspettiamo la telefonata.